Ma qui con noi abbiamo Dario Valbusa che è uno studioso della lingua e della storia dei cimbri e quindi ci spiega un po' perché c'entrano i tedeschi con i cimbri, chi sono i cimbri innanzitutto? I cimbri sono una popolazione che si è stabilita qui a partire dal 1287, parlo di qui in Lesinia perché in altre località si erano trasferiti molto prima. Ed erano di origine? Di origine bavarese, i primi. Poi ne sono arrivati altri, sempre di origine o bavarese o tirolese, però venivano... e hanno portato la loro lingua. Tant'è che se io le chiedo di dirmi, benvenuti qui dalla piazza di Bosco Chiesa Nuova, come si dice in cimbro? Si dice... Ti sfida, ripeto? Non potrei ripetere, ma forse è tra due o tre volte. Certo che è una storia antichissima, prima c'era Alessandro Landerloni qui con noi e ci ha ricordato come qui in un certo momento, proprio qui, il curatorium cimbrico abbia voluto, per così dire, continuare attraverso una presenza costante questa storia per mantenerne la memoria. Esatto, esatto. E noi, oltre a queste iniziative qui, abbiamo anche molte altre iniziative, tipo dei corsi di lingua cimbra e la partecipazione a dei concorsi letterari. Ne abbiamo avuti anche, ci hanno dato delle grandi soddisfazioni, li abbiamo anche vinti. Lei ha scritto il racconto in cimbro, ha tradotto la pimpa in cimbro. Ecco, la storia della pimpa è una cosa un po' particolare. La pimpa, noi stavamo tenendo un corso di cimbro e l'Istituto di Cultura Cimbra di Luserna e la regione Trentino Alto Adige hanno avuto, dal disegnatore Altan, quello che disegna la pimpa, hanno avuto l'autorizzazione a tradurla nelle varie isole linguistiche, nella lingua delle varie isole linguistiche a sud delle Alpi. E a noi hanno dato l'incarico di tradurre questa pimpa e l'abbiamo fatto materia di studio nel corso e durante l'inverno l'abbiamo tradotta, l'abbiamo doppiata e adesso è lì. Ma lì c'è un altro Valbusa che fra un minuto sentiamo, Fulvio Valbusa, che il mondo l'ha girato, ha portato in giro la forza, l'energia della gente cimbra di questi posti. Valbusa lo sa il cimbro? Dopo glielo chiediamo. I giovani lo sanno il cimbro? Non lo sa, forse qualche parolaccia. Ma sulla casa noi abbiamo trovato spesso e volentieri nelle contrade Haus e poi il nome della famiglia. Esatto, Haus è l'abitudine germanica di indicare l'abitazione di una persona, la casa di quello che la abita. Certo, certo. È un'indicazione in lingua tedesca, in lingua germanica, ma che comunque fa parte proprio della famiglia dell'abitazione. Grazie Dario. Noi facciamo entrare al volo in diretta. Fulvio Valbusa. Grazie Dario, benvenuto a Fulvio, olimpionico, vero di fondo, Torino 2006, medaglia d'oro, insomma un grande risultato. Guardia forestale, ti occupi quindi della tutela dell'ambiente. Allora, cosa vogliamo dire a casa, a chi ci segue per l'ambiente? Ma, cosa bisogna dire? Che tutta la gente che vediamo ora che ci gira attorno sicuramente sono arrivati in Lessinia per godersi quello che è il territorio, l'ambiente in se stesso e quello che è la completezza, la biodiversità anche di questo ambiente che si sta sempre più, come si può dire, perfezionando perché con l'arrivo anche, sappiamo tutti, possiamo fare un accenno di questi lupi. Vuol dire che il territorio sta bene, la biodiversità di un territorio vuol dire che è completa e di conseguenza la gente viene anche attirata da questo essere un territorio che non manca nulla, anche se qualche problematica esiste. Beh, naturalmente, poi penso anche ai tanti turisti che salgono qua su, nel tempo sono cambiati ma dagli anni 60 qui gente se ne vede tantissima. Bisogna anche in sentieri molto semplici come quelli che abbiamo fatto vedere prima, bisogna avere certe attenzioni però per stare in un ambiente e per andare anche in un ambiente come quello della montagna, no? Sì, certo, adesso noi vediamo qui naturalmente quello che succede in un paese come Bosco Chiesa Nuova, che magari vedersi e guardare l'abbigliamento anche solamente dei turisti che ci sono da Bosco non è un abbigliamento magari perfetto, l'infradito per un sentiero non vanno bene, magari lo scarponcino, ma non per camminare bene ma anche per, può essere anche qualche imprevisto che può succedere, qualche serpentello che magari che ti attraversa il sentiero, di conseguenza bisogna essere anche abbastanza attrezzati dal punto di vista proprio del vestito, dell'abbigliamento. Ecco, Fulvio, allora quanti allenamenti in questa Lessigna e quanti turisti o sportivi della domenica poi si incontrano, magari con atteggiamenti non proprio corretti? Ognuno è libero di fare quello che si sente, di conseguenza se uno si sente anche di andare a camminare con l'infradito, ripeto, con l'abbigliamento non consono a quello che è un territorio montano, lo può fare naturalmente, è a rischio, è un po' a rischio e di conseguenza quello che si trova in Lessigna, si trova tanta gente veramente che la usa, questa Lessigna proprio si può dire anche che usa la Lessigna come allenamento, come sfogo, come valvola di sfogo per quello che può essere un continuo lavorare nelle grandi città perché naturalmente la Lessigna come tutte le montagne sono una valvola di sfogo. Senza andare in polemica naturalmente con le nuove norme, con quanto prevede la nuova normativa allo Stato, decreti, una roba all'altra, guardia di finanza, ma ci dici qual è il compito più difficile di una guardia forestale? Il compito più difficile è secondo me, guarda, proprio andare d'accordo non con la gente che vive il territorio ma forse andare d'accordo con quelli che arrivano, no, comunque a parte gli scherzi, il territorio è da rispettare, bisogna cercare di rispettarlo al 100% perché il territorio bisogna mantenerlo così com'è. Purtroppo ancora oggi si vede, si vedono rifiuti abbandonati che sono quelle cose che fanno molto male e quando si arriva in Lessigna si fa un picnic, rifiuti, portiamocelo via, come l'abbiamo portato, portiamocelo via. Mi viene spontanea una domanda, io domenica sono stato in un altro ambiente completamente diverso, molto antropizzato che sono i laghi della provincia di Manto, i laghi mantovani e lì mi facevano notare su una mia sollecitazione e domanda riferita al ritorno di alcuni volatili, di alcuni uccelli in queste zone che non vedevo più, che erano segnali molto importanti però rispetto a quello che noi capiamo di un cambiamento climatico molto forte, allora ti chiedo da esperto quali sono gli animali che oggi piano piano rientrano o ritroviamo in ambienti come questo e come altri, che però devono essere animali che ci portano alla considerazione di un tempo che cambia e di un rapporto diverso che dovremmo avere con gli animali e con la natura? Sì, dobbiamo rintrodurre quel piccolo discorso appunto che avevo introdotto prima, quello che è in Lessigna all'arrivo soprattutto di questo grande carnivoro che è il lupo. Il lupo, faccio un piccolo accenno, è arrivato dalla Slovenia il maschio e la femmina dal Piemonte, cosa vuol dire? L'arrivo di questi carnivori vuol dire che proprio il territorio, la biodiversità di un territorio è assolutamente completo, vuol dire che ci stanno questi, ci possono stare questi animali e assolutamente dobbiamo conviverci, si sa, sono scomparsi per cent'anni, non avevamo più il segnale di questi animali, sono tornati. Come ci hanno convissuto qualche cento anni fa dobbiamo ricercare di conviverci ancora, si sa che la convivenza uomo-carnivoro è sempre più problematica. Non c'è l'aerone cinerino qua su? È di passaggio, ogni tanto in qualche pozzanghera di bevveramento passa anche l'aerone cinerino. Sì.